Estra rappresenta una delle incendenze del territorio toscano. Estra vuole porsi l'obiettivo di diventare la multiutilità toscana. Abbiamo anche il nostro bilancio di sostenibilità, misuriamo la nostra efficienza, i nostri risultati anche in termini di benefici reali di ritorno economico al nostro territorio, ma anche di benefici ambientali. Ecco noi siamo un'azienda che può vantare che il 100% dell'energia prodotta è da fonte rinnovabili. Abbiamo impianti dislocati su sei regioni, impianti fotovoltaici, impianti eolici e a biomasse e noi saremo in grado di offrire energia elettrica al 100% da fonte rinnovabile. Ci siamo concentrati fin dal 2016 sul tema della mobilità elettrica anche dal nostro punto di vista, da chi è in grado di erogare un servizio. Abbiamo iniziato con dei progetti pilota. Abbiamo iniziato da Arezzo, di Viena segnatamente, da Prato. Complessivamente abbiamo 10 colonnine circa, con una ricarica accelerata che va da 1 a 6 ore. Abbiamo anche realizzato un'app assolutamente innovativa, con una mappa interattiva offerta all'utilizzatore che gli garantisce la capacità di individuare la stazione di ricarica. Abbiamo una stazione di ricarica dotata di hotspot che funziona col wifi perché chi non avesse l'app si avvicina alla stazione e entra in rete, scarica l'app anche non essendo il cliente di estra e quindi è agevolato nella ricarica. inizial.